Il programma è diviso in due parti, una parte sono i documentari sull'arte e una parte sono i film d'artista. Cerchiamo di fare un giusto bilanciamento tra le due. Si vedono molte cose ai festival di cinema perché per quanto riguarda i documentari ce ne sono alcuni che sono usciti al festival di Cannes a Berlino, a Toronto. Dunque si sta attento alle nuove produzioni, si cerca di seguire quella che è la produzione recente di queste cose, se ne guardano tanti. Per quanto riguarda il cinema d'artista si trovano più nei circuiti dell'arte contemporanea, mostre, biennali e via dicendo. Quindi si cerca di mettere insieme un programma di qualità con qualche rispondenza all'attualità. Per esempio nel caso di quest'anno c'è il film su Urs Fischer che aveva un'opera alla Biennale di Venezia, c'è il film su Elmgren e Drexet che erano stati premiati alla Biennale di Venezia dei due anni fa, il film su Henry Sala che aveva la mossa alla Serpentine, il film su Richter che ha la mossa alla Tate. Quindi si cerca anche di stare attenti all'attualità. È il quarto anno, abbiamo lavorato e continueremo a lavorare molto. Ogni anno cerchiamo di proporre qualcosa di nuovo. Quest'anno rispetto all'anno scorso, per esempio, è il primo anno che usciamo da questa sala straordinaria che è l'Odeon e presentiamo un'installazione anche in un altro spazio che sono i cantieri Godonetta dove presentiamo una video installazione di Homer Fast che si chiama Talk Show. e quindi cerchiamo di dare spazio anche alla forma installativa con cui lavorano gli artisti oggi, quelli che lavorano con il video, non solo il film proiettato in sala.